un sito tutta la magia eccoci al gioco per il mese di luglio utilizzeremo un bicchiere modello casalingo completamente vuoto una moneta un mezzo dollaro di quelle che vendo nel mio store e quello che andrò a fare è stringere così forte questa moneta da farla passare attraverso la pelle entrare nel flusso sanguigno dopodiché la sento che passa attraverso il braccio attraverso il petto un piccolo sobbalzo a livello del cuore continua il suo viaggio ed esce alla fine dall'altra mano voilà un po' di più un po' di più Grazie a tutti.